Si è svolto oggi nell'aula magna del liceo scientifico il primo appuntamento del progetto di legalità indetto dalla Fondazione Antonino Caponnetto e rivolto a tutte le scuole medie italiane. Hanno partecipato per la città di Modica tutte le classi terze della scuola media Giovanni XXIII. Il progetto, che ha come scopo quello di diffondere la cultura della legalità, vuole anche ricordare la vita e il lavoro di Caponnetto, magistrato a capo del pool antimafia di Palermo negli anni 90. L'iniziativa di oggi rientra nell'ambito dell'educazione alla legalità, che oggi è fondamentale, è una materia trasversale a tutte le discipline e quindi è fondamentale nelle scuole insegnare ai ragazzi l'educazione alla legalità, il rispetto delle regole e soprattutto la conoscenza di quelli che sono i loro diritti. Noi insegnanti e la scuola abbiamo una grande responsabilità su questo perché siamo chiamati a formare i cittadini di domani e il progetto Giovanni e Sentinelle della Legalità, portato avanti dalla Fondazione Caponnetto, rientra proprio in questo ambito. A parlare con gli studenti è stato il presidente della Fondazione, l'architetto e editore scolastico Domenico Bilotta, vicino al magistrato per l'idea comune che la scuola è il luogo sacro della formazione del cittadino. E proprio per questo principio i protagonisti indiscussi sono gli studenti, che come Sentinelle della legalità svilupperanno gli argomenti da trattare e approfondire. Questo progetto è un progetto nazionale, il nome è Giovanni e Sentinelle della legalità. Giovanni e Sentinelle non vuol dire essere militari, vuol dire essere attenti, essere vigili, essere cittadini, consapevoli, in modo che si possa realmente sapere quello che sono i nostri diritti e i nostri doveri. A cominciare dal proprio territorio e espandere questo nella comunità, lavorare nella comunità partendo dai propri desideri. Oggi è un primo incontro, non parliamo di evento ma parliamo di percorso formativo, dove i ragazzi sceglieranno un argomento che gli sta a cuore, un argomento che poi dovranno studiare all'interno della scuola. Quindi la scuola diventa laboratorio di idee, gli insegnanti daranno una mano a questa conoscenza, ne andremo a discutere in marzo con la propria amministrazione locale. Saranno i ragazzi a parlare, a decidere, chiedere, va bene, quello che saranno gli sviluppi in quel tema. Noi chiederemo che siano presenti i genitori ma anche i cittadini, perché sicuramente se quel desiderio che i ragazzi hanno studiato, approfondito, esiste, evidentemente una parte di quella responsabilità cade anche sui propri genitori. E avremo un terzo appuntamento a maggio, dove si estende anche a livello provinciale e regionale. Non saranno più soli i ragazzi, ma saranno insieme ad altre scuole che partecipano al progetto, quindi si confronteranno anche fra di loro. Non è più un solo argomento di una sola scuola, ma diventano 5-6 argomenti. A livello regionale saranno oltre 25 le scuole che partecipano al progetto, quindi i temi diventano 25. A livello nazionale diventano 100-150. Vi immaginate se a livello nazionale si risolvessero 150 argomenti? L'argomento che i giovani modicani hanno scelto di trattare è quello delle dipendenze, perché l'uso e l'abuso di droghe è un problema che sentono molto vicino. È un lascito importante quello che il magistrato Caponnetto ha dato in eredità ai giovani, affinché i valori inalielabili come la giustizia e la legalità possano perdurare nel tempo.